difesa del marchio doc della pietanza napoletana per eccellenza. Non c'è niente da fare, la pizza tarocca non regge il confronto con quella originale che rivendica a gran voce la propria origine partenopea ed è per questo che la Col di Retti si batte per sostenere l'iscrizione dell'arte della pizza napoletana nella prestigiosa lista UNESCO dei patrimoni immateriali dell'umanità e tutelarne così l'identità facendo definitivamente chiarezza sull'origine italiana degli ingredienti e sulle modalità di preparazione. La pizza napoletana, sottolinea la Col di Retti, dal 4 febbraio 2010 è stata ufficialmente riconosciuta come specialità tradizionale garantita dall'Unione Europea ma ora l'obiettivo è quello di arrivare a un riconoscimento internazionale di fronte al moltiplicarsi di atti di pirateria alimentare e di appropriazione indebita dell'identità. Una battaglia condotta anche in difesa dei consumatori nostrani visto che anche in Italia quasi due pizze su tre sono ottenute da un mix di farina, pomodoro, mozzarella e olio provenienti da migliaia di chilometri di distanza. L'iscrizione dell'arte della pizza napoletana a patrimonio mondiale dell'UNESCO è una battaglia che aiuta il Made in Italy la possibilità di avere un'arte della pizza e pizze fatte a regola d'arte con prodotti tipicamente italiani. È una battaglia che portiamo avanti da anni, io l'ho proposta nel 2006 credo che entro marzo la Commissione Nazionale UNESCO potrebbe già dare il via libera a che questa sia la candidatura ufficiale italiana e poi lavoreremo durante l'Expo perché tutti i paesi del mondo accettino questa iscrizione. Coldiretti è impegnata con convinzione nella battaglia per ottenere il riconoscimento come patrimonio dell'umanità della pizza italiana. La pizza è un elemento simbolo del cibo Made in Italy del mondo dobbiamo difenderne la qualità, dobbiamo difenderne l'autenticità e dobbiamo difenderne anche il legame imprescindibile con la qualità e l'origine degli ingredienti. Quindi la vera pizza italiana fatta con il vero prodotto agricolo italiano pomodoro italiano, mozzarella italiana, olio italiano e farina italiana. E infine il calcio azzurri in trasferta.